Basta aprire qualsiasi quotidiano sportivo per accorgersi che il 90 per cento delle notizie riguarda il calcio. La gente non sa che c'è una squadra di football la mani gara a Napoli. La palla a mano non è tanto ben pubblicitata. Niente, niente, niente. E' già tanto, ma proprio tanto se abbiamo oltre righe così. Quando piove scende l'acqua dal tetto. Le docce vanno e vengono. Guarda le linee come sono qua. Ci sta la palla a canestro, l'arco a freccia, badminton. Vengono a mettere la rete. Più che altro lo faccio perché è una passione e magari mi pagassero. Ci manca, ci manca un appoggio concreto qua. Quello che state facendo voi per noi è fantastico. Per l'Udinese, Dido Andale! E per la palla a mano a Romeretto, Giaghi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.